Non voglio più avere niente a che fare con l'ambasciatore inglese, duro a fondo di Donald Trump dopo la diffusione di giudizi impietosi sul presidente americano, definito inetto ed incompetente. A Londra intanto è caccia alla talpa che ha divulgato i documenti riservati. L'inviato Giacomo Segantini. Non conosco l'ambasciatore, ma non è apprezzato negli Stati Uniti. Con lui non avremo più a che fare. Tweet che assestano una picconata alla relazione speciale tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Nel mirino di Trump c'è Kim Derrock, capo della diplomazia di Londra a Washington, che, nelle informative al suo governo, definiva il presidente insicuro e vanesio e la sua casa bianca inetta, disfunzionale, maldestra e dilaniata da faide interne. Cablogrammi top secret finiti in prima pagina sul quotidiano Daily Mail. Nell'offensiva di Trump ce n'è anche per Theresa May, che ha difeso Derrock nel gestire la Brexit. La premier ha fatto un disastro, scrive il presidente. Il dilemma per Londra ora è il seguente. Sostituire l'ambasciatore, ormai persona non gradita a Washington, rischiando di apparire succubi di Trump, oppure mantenerlo al suo posto, incrinando ulteriormente le relazioni? Derrock ha fatto solo il suo lavoro, ricordano dal Foreign Office. Il vero colpevole è la talpa che ha passato i documenti. Aperta un'inchiesta interna, l'ipotesi è che l'imbeccata sia arrivata da un alto funzionario pro-Brexit, intenzionato a danneggiare Derrock, da sempre considerato un eurofilo.